Buongiorno, buongiorno. Vi auguro di essere molto seri, cioè quando si prendono degli impegni bisogna mostrare di avere la forza e la costanza di mantenerti, capite? Perché è molto facile entusiasmarsi e avere un obiettivo, ma bisogna poi corrispondere. E quindi spero che questo forza viato sia veramente vivace, soprattutto questo vi auguro, perché evidentemente oggi sempre di più ci sono persone disabili, persone dimenticate, persone che hanno bisogno del vostro aiuto, che hanno bisogno del nostro Consiglio. Quindi questo richiamo di oggi è certamente molto, molto utile, direi necessario, perché sempre di più ci sono delle persone che sono trascurate, abbandonate, che magari pensavano di avere una pensione e non l'hanno raggiunta, insomma delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e aiutate, ascoltate e aiutate con molto amore. Ecco, questo è l'augurio che questo avvenga. Grazie. Grazie.